ciao pensavo un attimino in questi giorni qui come poter dare una mano una persona soprattutto nuova che fa il primo approccio per costruirsi una pedaliera dalla alla z ma innanzitutto deve vedere che tipo di musica fare e poi dopodiché naturalmente basarsi su che pedalini comprare questa è una pedaliera fatta in maggior parte per fare la musica di ghimur com'è che potete vedere allora innanzitutto ci vuole un porta pedalini ok che il porta pedalini in questo caso qui è un bug che ha delle entrate ok che ci si attacca poi naturalmente qui con le entrate dell'uscite che si attacca dall amplificatore e poi alla chitarra e poi a tutti all'alimentazione per i pedalini già compresi come potete vedere sia da 9 che da 12 queste da 12 queste da 9 e ce n'ha diversi per poterli attaccare più naturalmente questo è un alimentatore per metterci dell'altri pedalini perché vedete ne ho diversi e poi soprattutto ha di bello questo pedal power come potete vedere che leva i fusi dall'amplificatore e fusi fatti anche da pedalini leva parecchio di rumore allora iniziamo ora uno cos'è che deve vedere la prima cosa importante è questa allora innanzitutto ci vuole un compressore che è la base per diciamo per il suono della chitarra in questo caso qui io ho un cs3 della boss poi naturalmente il settaggio lo troverete voi quello più adatto alle vostre esigenze è un pedalino che non costa tanto il suo dovere veramente lo fa ottimamente c'è di meglio però vi posso garantire che questo è un pedale che il suo lo fa e poi ha tante regolazioni e si può giostrare veramente bene per determinati suoni questo è nux un overdrive che prende le funzioni del famoso ibanez del ts 8 9 non me lo ricordo precisamente però fa lo stesso suono e costa una scemata questo dovrebbe costare una trentina di euro e ma il suo veramente lo fa un bel suono e usato spesso e volentieri nelle canzoni dei fin floyd libanitz ma averci un oggetto che veramente costa poco e fa il suo penso sia la meglio di tutti ve lo consiglio è molto carino e blue drive e questo è un pedalino usato spesso e volentieri da ghimur in tanti pezzi e è un pedale che veramente questo ha fatto la storia del dei come lo potrei definire un distorsore lo puoi usare sia da distorsore che da overdrive ok la cosa bella di questo pedalino che ha tre settaggi sono molto semplici il level il gain e i toni come come vedete il nux che sono molto semplici da usare molto settabili in qualsiasi maniera in qualsiasi situazione molto bello questo messo anche leggermente da quel tocco alla chitarra come a ghimur poi abbiamo il metallizer metallizer direi quasi un faz e insieme al big maf che qui accanto sono veramente è un distorsore diciamo metallizer si più distorsore e però a di bello che veramente ha una circuitazione che c'è già un chorus dentro perciò un distorsore con un chorus dentro ma molto 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 bello usato per tante canzoni di ghimur come confortable number e altre altre canzoni il big maf tutti lo conosciamo praticamente usato in quasi tutte le situazioni delle canzoni di ghimur dove c'è diciamo musica suoni distorti e questo è quello russo quello verde big maf russo ve lo consiglio altamente perché veramente è potentissimo e poi anche questo è giustrabilissimo in qualsiasi situazione il primo approccio che dovete avere a capire un attimino questa cosa qui la pedaliera si mettono sempre per primo il compressore o se no per primo anche vi faccio un esempio un accordatore ma secondo ci deve essere un compressore poi i distorsori e da andare da il meno potente al più potente ok questo è la scala di come si fa una pedaliera poi questo è in noise killer questa macchinettina qui leva tutti i frusci e quando c'è da levare i frusci da pedalini questo naturalmente soprattutto quando si suona a volumi molto arti leva tutti i ronzii i frusci da amplificatore da pedalini e permette di avere un suono molto più pulito l'equalizzatore naturalmente questo serve io lo uso parecchie volte da booster perché big maf lo si accompagna sempre o con un blu drive con il nux o naturalmente con un equalizzatore mai da solo perché c'è un suono diciamo poco grosso da solo invece diciamo accompagnato con un equalizzatore il suono si amplia parecchio e da quel bel tocco proprio di suono bello grosso pastoso ok allora una volta che uno ha capito compressori compressore poi tutti gli altri pedalini salendo dal meno potente al più potente ok poi si mette la fase dei pedalini di quelli che sono diciamo di come potrei dire di contorno ok allora qui si inizia con un giga di lei in poche parole è un di lei che lo set in qualsiasi maniera questo la parola stessa dice giga di lei perché ha la memoria di un giga e ti può permettere di avere tanti settaggi e poi di avere veramente tanti effetti che ha questo giga di lei di permettere di avere tante modalità di di lei veramente questo è fantastico allora come potete vedere anche un'altra cosa alcuni di questi sono pedali dell'anni ottanta e sono veramente ricercatissimi e sono fantastici a non sono veramente fantastico questo è accanto è il chorus e ci è due questo è un pedalino è considerato il sacro graal dei pedali perché naturalmente lo usa ghimur lo usa tuttora anche insieme a questi pedali che vi ho fatto vedere sono nella base di ghimur ma il chorus ce2 veramente si è sentito parlare tantissimo un suono particolare bellissimo squillante e bello bello molto caldo molto caldo poi accanto abbiamo l'em xr è un phasar il phasar usato per tantissime canzoni di ghimur ok da da quel tocco veramente che solo solo esclusivamente il suono dell'em xr si riconosce veramente del phasar 90 si riconosce veramente da tanti altri phasar molto bello poi abbiamo le lady che sarebbe l'electric lady che sarebbe in poche parole il il fratellino dell'electric mistress piccolino nano però il suo veramente lo fa all'asta grande di lavoro e ha un ottimo suono un ottimo 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 suono è veramente bello e questo è in poche parole l' rt20 rotary e come fosse la parola stessa rotary dice che in poche parole ghimur usa la dotola o la dotola doppola non mi ricordo bene com'è che si chiama comunque usa in poche parole un effetto che gli fa sembrare la musica che ruoti a destra e sinistra e questo fa in poche parole la solita la solita mansione è un po' un cabinet che ci registri un po' non che ci registri che ci senti tutta la musica come tutti i suoni come tu le vuoi mandare è veramente un bellissimo oggetto ti dà quel tocco di magia al suono che lo senti ruotare c'è il rotore che va più piano più forte ha il distorsore già compreso e veramente ha tantissime cose tantissime 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 bene io qui stasera non sono qui per dirvi fate la pedaliera in questa maniera no però passando il tempo ho fatto dei video che parlavano delle pedaliere mi sono reso conto che nel tempo poi quello che ho cambiato sono state delle cose che all'inizio avevo preso per risparmiare dei pedalini che avevo preso per risparmiare per dire questo andrò a prendere proprio un qua la versione che usa ghimur quello che ha in poche parole il compressore cs2 andrò a prendere ma anche questo fa veramente il suo egregio lavoro e c'è una manza però vi posso garantire una volta che ho cambiato il compressore cioè veramente questa è una pedaliera che la possano usare persone anche professioniste ve lo posso garantire questa è una pedaliera che uno non ci mette più mano anche perché hai tutto hai tutto veramente di là ho il one me ora non è presente comunque vi posso garantire una volta che uno ha distorsori chorus delay big math chi più ne ha più ne metta fazar cioè a questo punto una persona veramente ha tutto e da persona nuova che dovessi partire a farmi una pedaliera dalla A alla Z veramente se mi piace ghimur una cosa forse cambierei non prenderei più il nux overdrive ma prenderei l'ibanets per una cosa perché è sempre meglio secondo me averci dei pedalini originali che hanno veramente il suono suo suo veramente che senti nei dischi di ghimur uguale anche il compressore lo cambierò in seguito solo per una cosa perché a me piace avere anche l'originale che ha ghimur proprio perché è una fissa mia ma ripeto questo fa il suo e ce ne avanza anzi forse per tante cose anche molto più settabile dell'altro pedalino che ha tre soltanto potenziometri e questo invece ne ha quattro vi posso garantire che veramente è ottimo bene vi direi questo di non spendere veramente tanti soldi di andare a trovare questi oggetti al mercatino dell'usato e guardare bene un attimino cosa comprare fateci caso chi è che suona veramente la musica di ghimur a questi oggetti bene io spero che vi sia stato utile questo video spero veramente che i soldi le spendete su degli effetti che veramente vi renderanno felici se avete qualsiasi domanda fatela scrivetemi se vi è piaciuto il video mettete un like e se vi piace iscrivetevi pure al mio canale ciao ci sentiamo alla prossima ciao tempo addietro vedendo diversi video dei film floyd e ho visto diversi gruppi musicali che suonavano i loro pezzi tipo anche gli scorpions e mi è venuta a mente ma perché non provare con un'altra chitarra a suonare quello che suonano più in floyd bene questo è successo ho trovato l'occasione di una chitarra fantastica che è una come potete vedere una washburn questa è una superstar degli anni 80 se non sbaglio una g5w ha un ponte veramente che ci sono rimasto sbalordito perché è di un facile da usare ma la cosa bella basta che tocchi la leva leggermente fai dei bending mostruosi e poi veramente suona suona veramente bene e forte il manico veramente è spaziale è fatta una chitarra personale veramente penso sicuramente a the rock molto 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 veloce la cosa bella di questa chitarra che si sente i legni che da differenza delle chitarre di ora sono leggerine questa è veramente una chitarra tosta si sente proprio in quell'anni lì ci mettevano materiale per fare le chitarre ve la suggerisco se vi capita come occasione beh questa è una chitarra che oltre a suonare bene è bella anche esteticamente non so magari va a gusti a me piace tantissimo però ve la suggerisco e spero che vi sia piaciuta e questo ha voluto mettere un piccolo diciamo ritaglino di questa chitarra venuta nuova a casa e mi piaceva che si condivideva insieme questo piccolo pensiero ciao ciao